se il veicolo è munito di un crono tachigrafo digitale dalla stampa dei dati tecnici è possibile risalire i valori caratteristici del veicolo tra cui lo sviluppo lineare e la marcatura degli pneumatici e la velocità massima ammessa dal limitatore la risposta corretta è vero se il veicolo è munito di un crono tachigrafo digitale è possibile verificare se il conducente ha superato i limiti massimi di velocità e determinare tra l'altro data e ora dell'evento e velocità massima raggiunta la risposta corretta è vero se il veicolo è munito di un crono tachigrafo digitale dalla memoria dell'apparecchio è possibile stampare gli eccessi di velocità verificatisi negli ultimi dieci anni la risposta è falso dalla memoria della carta tachigrafica del conducente è possibile risalire alla sua attività lavorativa dei 365 giorni precedenti la risposta corretta è falso si può risalire agli ultimi 28 giorni di attività se il veicolo è munito di un crono tachigrafo digitale la stampa dei dati tecnici è possibile dalla stampa dei dati tecnici è possibile risalire al tipo di motore e alla sua alimentazione la risposta corretta è falso se il veicolo è munito di un crono tachigrafo digitale dalla stampa dei dati tecnici è possibile risalire la marca degli pneumatici la risposta corretta è falso attenzione non rileva la marca degli pneumatici cioè l'azienda che ha prodotto gli pneumatici ma rileva la marcatura degli pneumatici cioè i dati tecnici degli pneumatici quindi diciamo l'altezza del pneumatico l'indice di velocità massimo che può raggiungere il pneumatico la velocità appunto del massima sopportabile l'indice di carico che è quello che indica quanto può sopportare di peso lo pneumatico eccetera eccetera se è di tipo radiale se è uno pneumatico invernale cioè mush and snow cioè da neve e ghiaccio e così via quindi attenzione alla differenza tra la parola marca e marcatura sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica i tempi di guida risposta corretta vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica il tempo di riposo la risposta corretta è vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica altri lavori risposta corretta vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica tempi di disponibilità risposta corretta vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica le interruzioni di guida la risposta corretta è vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica la modalità out of scope cioè un periodo di utilizzo fuori dal campo di applicazione della normativa sociale la risposta corretta è vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica la modalità traghetto o treno infatti rappresenta una piccola nave cioè un traghetto visto naturalmente dal davanti la risposta corretta è vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica il soggetto officina cioè un intervento da parte dell'officina autorizzata la risposta corretta è vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica il soggetto controllo una verifica da parte una verifica da parte degli organi competenti la risposta corretta è vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica il soggetto azienda cioè la gestione dati da parte dell'azienda proprietaria del veicolo la risposta corretta è vero sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica la dimensione degli pneumatici ovviamente la risposta corretta è falso in quanto indica invece i tempi di guida un tempo di trascorso alla guida del veicolo quindi risposta corretta è falso sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica attività ricreative anche questa affermazione è falsa in quanto indica l'orologio cioè l'ora esatta risposta corretta è falso sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica altri lavori attenzione a non confondere questo simbolo con quello dei due martelli chiamiamoli due martelli due attrezzi incrociati questo indica invece officina quindi la risposta corretta è falso sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica riposo settimanale anche questa affermazione è falsa in quanto il simbolo indica controllo come abbiamo visto sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica la modalità traghetto o treno anche qui la risposta corretta è falso in quanto indica azienda sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica la modalità fuori competenza mentre abbiamo visto che sono le interruzioni di guida quindi la risposta corretta è falso sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica il soggetto azienda affermazione falsa poiché questo simbolo indica invece il tempo di disponibilità sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica il soggetto officina come abbiamo visto state attenti a non confonderla a non confondere questo simbolo che è in realtà altri lavori cioè attività diverse dalla guida comprese nell'orario di lavoro con il simbolo soggetto officina che è un martello quindi la risposta corretta è falso sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica le attività di guida come abbiamo visto prima indica invece un tempo di viaggio su un traghetto o un treno quindi la risposta corretta è falso sul display del crono tachigrafo digitale il simbolo in figura indica il soggetto controllo anche questo quiz è falso in quanto indica le interruzioni di guida su un po' di più su un Voce il simbolo ma